L'epifania come mistero che diventa problema. Problema, abbiamo detto ieri con le parole di Paolo VI, problema perché ci impegna a cercare questo Cristo sempre presente nella nostra vita. Questo Cristo che si manifesta in tanti modi nella storia e che spesso io e te che ci professiamo, suoi fedeli che ci professiamo cristiani, non lo riusciamo a riconoscere. Ecco, la solennità di oggi, l'epifania ci deve proprio incoraggiare ad avere occhi più attenti e cuore più aperto per accogliere questo Dio che è presente proprio in questo momento, nella tua, nella mia vita e nella vita di tutti gli uomini. Poi vi è un secondo, diciamo, aspetto di questa festa. L'epifania è la manifestazione del Dio che si fa uomo, del Dio che si è fatto bambino ad ogni uomo, alle genti. Cioè l'epifania, la manifestazione, ha un carattere universale. Dio vuole rendersi presente a tutti, in ogni parte del mondo e questo desiderio di Dio diventa poi un diritto per gli uomini. Ogni uomo, sia quelli che credono, che quelli che non credono, sia i poveri, sia i potenti, sia i ricchi, sia i meno ricchi, sia gli onesti, sia i disonesti, hanno il diritto di conoscere Dio, hanno il diritto di conoscere il Vangelo. E ad ogni diritto c'è sempre un dovere. Di qui nasce il dovere di noi credenti della Chiesa di far conoscere Dio in ogni parte del mondo, in ogni luogo della nostra vita. Oggi dovremmo dire di far riconoscere, di far ripresentare Dio nei luoghi già evangelizzati come l'Europa, dove Dio ormai è emarginato, è messo da parte. Ogni uomo, ogni uomo a cui è stato negato Dio, ogni uomo che si è allontanato da Dio, e ogni civiltà che ha emarginato Cristo ha il diritto di essere annunciato nuovamente, di ricevere l'annuncio, di ricevere questa manifestazione, di vedere, tra virgolette, attraverso l'azione della Chiesa, la testimonianza d'amore, l'annuncio dell'Evangelo, questo Cristo. E voglio chiudere ancora una volta con le parole di una omelia del cardinale Montini, perché siamo nel 1960, il 6 gennaio del 1960, omelia pronunciata nel Duomo di Milano, quando appunto il futuro Paolo VI era arcivescovo di Milano. Diceva l'arcivescovo Montini, Cristo è per tutti, per tutti gli uomini, per tutti i tempi, per tutte le nazioni, egli è venuto per il mondo, la terra allora è per lui, la storia è per lui. Questa verità alla quale la nostra mente è abituata è meravigliosa, è straordinaria, è magnificamente moderna e prodigiosamente feconda. Auguri ancora a tutti, ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!